Estate di lavori per le strade di Padova. I cantieri hanno invaso la città svuotata dalle auto. Sono molti i punti in cui si lavora sia per la nuova linea sia per quella già esistente. Stiamo lavorando in diverse punti della città, sia per quanto riguarda i cantieri del tram ma non solo. Ovviamente cerchiamo di fare i lavori che sono più impattanti in questo periodo. Si tratta prevalentemente per quanto riguarda il tram di spostamento di sottoservizi, quindi cantieri che cerchiamo di essere il più veloci possibili. Verso fine mese inizieremo anche con Ponte di Brenta dove però i cantieri, proprio per decidere il meno possibile sulla viabilità, saranno mini cantieri di una dozzina di metri che dureranno un giorno e poi si verranno spostati e saranno pressoché integralmente sui marciapiedi. Quindi questo non andrà a intaccare la viabilità e anche il disagio per i padoni sarà limitato. Per permettere i lavori di sostituzione della rotaia verrà chiuso anche Larga Europa Porta d'Accesso al centro cittadino. La chiusura di Larga Europa è prevista per due giorni, questo sabato e questa domenica, in quanto i lavori di sostituzione della rotaia dell'attuale linea tramviaria interesseranno a quell'incrocio e quindi i mezzi che proverranno da Larga Europa per entrare sulle riviere subiranno delle deviazioni ma che verranno ovviamente comunicate alle fermate.